Lara, che diavolo è successo? La tempesta si è scatenata all'improvviso. Le nubi hanno circondato l'aereo. Lara, ascolta. Ho visto lo schianto da qui, perciò devi essere vicina. Torna subito e indietro. Ok. Arrivo. Intrusa! Qui! L'attacco di nato. Eccola! Spregniamo! Che diavolo! Non al corpo! Non al corpo! Non al corpo! Spregniamo! Sida! Devo trovare il modo di salire. Non c'è nulla. Quello sembra un buon punto per la corte. 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 Prima dobbiamo pensare agli altri. Ci riuniremo appena troveranno Selma. Mi dispiace, Rot. Glielo devo. Non posso abbandonarlo. A volte bisogna fare dei sacrifici, Lara. Non puoi salvare tutti. So di che cosa parli. Ci sono già passata. No, quelli erano lutti. I sacrifici comportano scelte. I lutti bisogna solo accettarli. Non sceglierò di lasciarlo morire, Rot. Se davvero vuoi farlo, Lara... Cerca di sbrigarti. Mi dispiace, ma non posso lasciarlo laggiù. Qui niente di strano. Quassù non troveremo nessuno. Può darsi, però abbiamo ordine. Io raggiungo gli altri giù all'aereo. Tu continua a ispezionare le rovine. Certo. Muoio dalla voglia. Che gran rottura. Mi serve aiuto! Ma che... andiamo, forza! Non posso farcela! Quella salva rata! Grazie. Certo. Ma che pack! Grazie. C'è qualcuno in ascolto? Roth! Eccomi Reyes, come siete messi? Abbiamo seguito degli uomini in una specie di città E gente fuori di testa Roth Cosa stanno facendo qui? Non lo so E forse non voglio saperlo Novità su Sam o Whitman? Non ancora, tu sei con Lara? Sì, presto scenderemo a valle per venirvi incontro Ok, proveremo ad avvicinarci un po' Restiamo in contatto Una sorta di mortaio con pestello Veniva utilizzato dagli erboristi Nel mortaio ci sono piccoli frammenti di ossa Di animale, spero Sì, presto scenderemo a tutti 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 Ecco il segnale Dai, dobbiamo tornare Taci, lasciami finire Sì, presto scenderemo a tutti Sì, presto scenderemo a tutti Tutto scenderemo a tutti Sì, presto scenderemo a tutti Per me è tempo di lasciare Per me è tempo di lasciare quest'isola maledetta Sì, presto scenderemo a tutti Per me è tempo di lasciare Capitano Gessop! Capitano Gessop! Dove è andato? Ciao Lara, Rosso ci ha detto tutto Tranquilla, troveremo un altro modo per andarcene dall'isola, ok? Speriamo E il Sen È in una specie di antico palazzo giapponese Ho un brutto presentimento Ma no, non preoccuparti Si starà facendo un giretto Raccontane un'altra, Alex Fate attenzione là dentro, mi raccomando Ora ho sentito Scenderemo a te Concluderemo a Grazie a tutti.